Nonostante le pressioni della regione, con Solina Segneddu in prima fila, la cabina di regia del Comitato Scientifico potrebbe decidere di lasciare la Sardegna in zona arancione per un'altra settimana, prima di promuoverla a zona gialla. Resta in rosso solo la Valle d'Aosta. Sarà la cabina di regia a decidere se la prossima settimana la Sardegna potrà passare dalla fascia arancione a quella gialla. L'indice RT è passato dallo 0,81 allo 0,74, positivi anche i dati sulla pressione negli ospedali con una percentuale del 22% delle degenze sia in area medica che in intensiva, dunque indice al di sotto dell'allerta. Ma l'isola proviene da due settimane di rosso alle quali è seguita una settimana arancione e nonostante le pressioni del governatore Solinas e dell'assessore Nieddu si rischia un'altra settimana di arancione. L'Italia al momento invece è quasi completamente in zona gialla. Sono in arancione Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. L'unica in fascia rossa è la Valle d'Aosta. Tra i cambiamenti previsti la Campania che potrebbe passare in arancione e la Puglia che potrebbe ottenere il giallo. Nell'isola, nell'ultima settimana, i contagiati sono rimasti sotto quota 200, ma ogni giorno si registrano nuove vittime. Un segno positivo sul calo di pressione negli ospedali arriva dallo smantellamento della tenda militare che era stata allestita sopra la pensilina di accettazione del pronto soccorso del Santissima Annunziata. Era stata allestita alla fine dello scorso anno per fronteggiare la seconda ondata Covid, quando si registravano anche 70 pazienti Covid in fila al triage.